Musica Benvenuti Campania Oggi, torniamo a parlare di un problema molto serio che sta interessando in particolar modo i campi flegrei, parliamo di terremoto perché questa notte alle 3.35 la terra è tremata ancora una volta, una scossa molto forte, più forte delle altre, dello sciame sismico che in questi mesi sta impaurendo i residenti della zona, insomma una situazione da tenere strettamente sotto controllo. Che cosa è successo stanotte alle 3.35? Alle 3.35 un evento sismico di magnitudo 4.2 ha colpito l'intera zona dei campi flegrei, il sisma ha avuto una profondità di 2,9 km, è stato distintamente avvertito in molti quartieri di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrutta, passando anche per Pianura, ovviamente a Pozzuoli, a Bacoli, a Monte di Procida, a Quarto, su parte anche della fascia costiera giulianese, in particolare a Licola, ci sono state diverse segnalazioni, ha scattato il tam-tam sui social e centinaia di residenti, temendo il peggio, si sono riversati in strada nel cuore della notte. Insomma, una situazione abbastanza grave, anche se per fortuna, come diceva Marco, non ci sono stati danni a cose, oggetti o a persone, ma andiamo subito a Pozzuoli, dove c'è per noi Cristina Aliguori, cerchiamo di capire com'è la situazione nella città flegrea dopo questa notte. Sì Giovanni, buongiorno, buongiorno a te, sono qui a Pozzuoli, questa notte c'è stata una fortissima scossa di terremoto magnitudo 4.2, la terra ha tremato qui a Pozzuoli, nei campi flegrei, ma anche a Napoli e nella provincia di Napoli. Tantissima paura per tutti i residenti di questa zona, per questa scossa di questa notte, ma anche per tutte le scosse che si stanno susseguendo tantissimo in questo periodo. Un'attività bradisismica che è tenuta ovviamente sotto strettissimo controllo dalle istituzioni. Il sindaco di Pozzuoli ha chiuso le scuole come insomma da prassi per verificare i danni che potrebbero aver avuto le strutture scolastiche, proprio in questo momento è proprio in giro per fare delle verifiche in tutti i luoghi sensibili. Allora Cristina, volevo sapere però se c'era da parte dei residenti questo clima di paura che viene anche rappresentato dai mezzi di comunicazione, anche noi abbiamo titolato questa mattina è paura tra i residenti perché ormai la terra trema quasi tutti i giorni sotto i loro piedi. Eh sì Giovanni, c'è comunque tanta paura tra la popolazione e soprattutto tra i giovani che più che altro non sono molto abituati a queste scosse di terremoto, un po' più di serenità relativa tra gli anziani che molti dei quali mi hanno raccontato che sono più che abituati ora sono 40 anni da lontano, 1980-83 che si vive in questa situazione perenne di paura. Quello che viene sottolineato però dalla popolazione è il fatto che non c'è molta informazione sui piani di evacuazione e che quindi in caso di scossaforte effettivamente non si sa bene che cosa fare. Sicuramente questo dei piani di evacuazione è un tema forte Marco, anche perché da anni si dice che i campi flegrei sono appunto un problema nazionale, anche se nei giorni scorsi il presidente della protezione civile, anche noi abbiamo parlato al nostro telegiornale, ha gettato acqua sul fuoco. Sì, Fabrizio Curcio, il capo della protezione civile, quindi il responsabile della nostra sicurezza in eventi traumatici come questo, ha rassicurato la popolazione, ha spiegato che la caldera dei campi flegrei è quella tra le più monitorate al mondo, ha spiegato che ci sono degli sciami sismici in corso a livello superficiale, quindi vengono percepiti distintamente dalla popolazione, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. E noi andiamo all'osservatorio Vesuviano perché abbiamo ascoltato il responsabile dell'osservatorio per farci spiegare che cosa sta succedendo. Allora, stanotte alle 3.35 c'è stato questo evento di Manitudo 4.2 che è stato il più grosso evento degli ultimi 40 anni. Questo evento è avvenuto durante uno sciame che è cominciato ieri mattina, che ha contato più di, oramai sono una settantina di terremoti localizzati un po' in tutta l'area sismogenetica, quindi sulla parte di Pozzuoli e anche con terremoti anche nel Golfo. Questo evento si inquadra nell'ambito di questo fenomeno bradisismico, sollevamento del suolo che in qualche modo per la spinta dal sottosuolo si deforma questo solo questa crosta e la crosta si rompe, si frattura e genera terremoti. I terremoti possono essere anche di Manitudo, tipo quello che è accaduto stamattina, anche maggiore. Su questo non possiamo fare previsioni, ma sull'anche maggiore possiamo dire che comunque le stime che sono state fatte da studi fatti proprio sul tipo di crosta di questo vulcano ipotizzano terremoti non tanto più grandi di questi, come massimi eventi attesi. Altri parametri che stiamo raccogliendo non ci stanno dando indicazioni su variazioni del sistema e quindi sostanzialmente la situazione sembra invariata, ma seguiremo con grande attenzione anche questa crisi. Insomma Marco, gli esperti dicono che questo sciame sismico continuerà ma non dovrebbe essere diverso da questo, cioè con scosse solitamente abbastanza basse di una bassa intensità 2,1, 2,5, 2,6, raramente con scosse con intensità più elevata come quella di questa notte 4,2, ma in generale scosse che non dovrebbero creare problemi alle persone e alle cose. La più intensa degli ultimi 40 anni ha detto il direttore dell'osservatorio Vesuviano e la scossa che si è registrata questa notte 4,2, significa che non ci dovrebbe essere un altro evento sismico di portate di magnitudo superiore. Ci sono stati altri due eventi tellurici da segnalare questa mattina, uno alle 10.45 di magnitudo 2,1 ed un altro alle 11.16 di magnitudo 2,5. Ovviamente Giovanni, noi dobbiamo affidarci agli esperti come i sismologi o i geologi dell'osservatorio Vesuviano o dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che monitorano costantemente con le loro strumentazioni l'attività sismica del sottosuolo, però è evidente che c'è poi uno scarto tra le analisi e gli studi condotti dai sismologi e dagli esperti e quello che percepisce il cittadino comune della strada che ovviamente nota e registra gli effetti reali del terremoto, quindi il lampadario che trema, i vetri che tremano, anche il boato che di solito accompagna i terremoti che avvengono nei campi flegrei. Tu hai mai sentito un terremoto? Sì, ne ho sentito uno, ma non quello dei campi flegrei, anche perché Giuliano, come sappiamo, è divisa in zone. Ci sono zone in particolare quelle a ridosso della fascia costiera o del centro storico che risentono anche degli eventi che avvengono nei campi flegrei. Fortunatamente uno di questi ultimi terremoti non l'ho avvertito, mi avvertì uno che ebbe l'epicintro a Caserta, mi ricordo qualche anno fa. Fu sicuramente un'esperienza difficile. Abbiamo sentito anche il sindaco di Pozzuoli che ci spiega quello che sta succedendo e soprattutto cerca di fare un punto anche sul discorso fake news. Sindaco, un'attività bradisismica che spaventa un po' i cittadini di Pozzuoli, ma che cosa sta succedendo? No, vabbè, io mi attengo a quelli che sono i canali ufficiali, naturalmente. C'è un'intensificazione dell'attività bradisismica dove non ci sono evoluzioni significative, importanti e quindi mi attengo un attimo con i dati tecnici perché sono loro i canali ufficiali. Come siamo con i piani di evacuazione? No, siamo messi bene, naturalmente vanno aggiornati, vanno adeguati. Nelle prossime mesi apriremo nuove arterie principali. Stiamo lavorando, ma il rischio di evacuazione a tutora non c'è, quindi c'è una domanda frequente, come se non abbiamo questi piani di evacuazione. Oggi va fatta soprattutto un'azione diversa, va fatta un'azione che va soprattutto all'incremento della resilienza del territorio e nella mitigazione del rischio, perché il fenomeno del bradisismo non è che c'è oggi e poi non c'è più, c'è sempre. Ecco, questo è un tema importante Marco, perché la paura è la migliore benzina per alimentare le fake news e questo potrebbe rappresentare un problema nel problema, perché il panico generato da una situazione comunque complessa come quella che stanno vivendo i campi flegrei potrebbe dare adito ad alcune persone di iniziare a lanciare degli allarmi ingiustificati, stanno circolando a più riprese delle notizie riguardo appunto a determinate evacuazioni in determinate zone della città. Ad oggi noi non abbiamo nessun comunicato ufficiale che dica cose del genere, anzi qualcuno che le smentisce. Ovviamente gli organi di stampa e giornalisti sono chiamati alla responsabilità, occorre gestire in maniera trasparente e attraverso ovviamente le procedure di verifica tutte le notizie che riguardano i campi flegrei. Al momento non è stato attivato alcun piano di evacuazione e ovviamente non devono neanche generare allarmismo certi video che circolano sui social. Ricordiamo come alcuni giorni fa è diventato virale un video che mostrava l'attività anche della solfatara di Pozzuoli. Si vedevano vere e proprie fasi di ebollizione anche di alcuni specchi d'acqua all'interno della solfatara, ma anche in quel caso l'attività documentata attraverso un video che è diventato poi virale su TikTok, rientrava nella normale attività bradisismica dei campi flegrei. Insomma dobbiamo essere tutti molto attenti anche perché se da un lato dobbiamo pretendere che ci siano i piani di evacuazione e che siccome la situazione è una situazione comunque di rischio le persone devono sapere cosa fare, quando farlo e come farlo, questo è fondamentale. Dall'altro lato però non dobbiamo farci prendere dal panico anche perché sappiamo bene che quella zona, la zona dei campi flegrei, è una zona che da sempre registra fenomeni del genere ed è una zona che per sua fortuna o per sua sfortuna, dipende dai punti di vista, nasce in un contesto naturalistico del tutto particolare. Quello appunto dei campi flegrei che è studiato proprio per questo in tutto il mondo e che la rende anche però così bella, così visitata anche da molti turisti e così anche apprezzata per le sue particolarità. Insomma una situazione da tenere ampiamente sotto controllo. Ovviamente Giovanni queste notizie vanno sempre gestite anche con le pinze perché l'allarmismo può avere ricadute ed effetti negativi sul piano del commercio, del turismo, dell'economia, del mercato immobiliare. Quindi dobbiamo gestire l'informazione riguardo ai campi flegrei con la giusta correttezza. Certo che anche a Napoli si è sentita la scossa, noi ci colleghiamo con Francesco Molaro che ci dice lì invece in città quanto e come si è sentita. Anche Napoli è grande perciò ci sono delle differenze, una cosa è Ponticelli, una cosa è Bagnoli. La linea Francesco Molaro. Sì, grazie direttore della linea. A Napoli si parla soltanto della scossa di terremoto di questa notte e delle scosse che ci sono state in questi ultimi giorni. Non si è sentita qui al centro ma sicuramente in alcuni quartieri di Napoli vicino alla zona Flegrea, quindi parliamo di Pianura, di Fuorigrotta, zona di Bagnoli sicuramente, ma anche del Vomero, zona alta, quindi Arenella, Vomero e anche in altre zone, è chiaro soprattutto ai piani alti. C'è grande preoccupazione, molti cittadini parlano molto di questa ennesima scossa e sono un po' preoccupati tra la gente guardando un po' quello che succede in città. Se ne sta parlando tantissimo. Francesco, oggi è anche la giornata di Mattarella a Napoli, sarà proprio dove sei tu, nella Basilica di San Giovanni, di fianco all'Università Orientale, che ricordi la mia università di quando ero studente. Com'è la situazione a Napoli anche dal punto di vista del traffico? Sì, alle mie spalle qui ci sarà l'incontro con il Presidente Mattarella che parteciperà a questo importante convegno dedicato alle quattro giornate di Napoli. La macchina organizzativa è già iniziata presto questa mattina, soprattutto per sgomberare le auto di vieto di sosta in tutta la zona di Via Mezzocannone, nella zona dell'Università Orientale, dove siamo qui. La Basilica di San Giovanni Maggiore è pronta per accogliere il Presidente della Repubblica. ti dico anche che ci sono un gruppo di disoccupati che per ora sono all'esterno di Palazzo Giusso, nel lato laterale dell'Università Orientale. La Polizia ha chiuso questa zona, ha interdetto questa zona, questa sarà la zona dove poi i giornalisti seguiranno l'evento di questo pomeriggio. Limitazioni soprattutto dovute anche poi in città per la questione del blocco di alcune strade, della chiusura di alcune strade e come vi dicevo per la rimozione forzata in zona Mezzocannone. Ricordiamo che stamattina c'è stato il grave problema dei ritardi dei treni, della metropolitana linea 1 ma anche della linea 2, dei collegamenti con la circunflegrea proprio per la scossa di terremoto che c'è stata a Pozzuoli nella notte, però la circolazione è ripartita, ci sono stati ritardi, pensate, di oltre 120 minuti, ma ora la circolazione è ritornata abbastanza regolare. Io da Palazzo Giusso, dalla Basilica di San Giovanni Maggiore, ti ridò la linea. Noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, ma restate con noi perché c'è un'intervista interessantissima a Don Massimo, parroco di Pontericcio, pensate che prima di fare il parroco faceva il PR nelle discoteche, restate con noi. Esperienza e tempi certi di consegna, ci occupiamo di sabbiatura e verniciatura a polvere di superfici metalliche. Un team di esperti, grazie all'utilizzo di dispositivi e attrezzature di ultima generazione, assicurerà la massima resa del lavoro effettuato. Affidati alla verniciatura dei Fratelli Prato. Siamo a Giuliano in zona Asi, Pontericcio. Seguici sui social e visita il nostro sito www.laverniciatura.it Quando il Napoli vince ed ha il sorriso stampato sulle labbra? Se in riunione non riesci a non pensare alle sostituzioni? Hai litigato con il tuo collega per colpa del fatto 3-3? I gol degli azzurri te li sogni la notte e pure di giorno? Da lunedì al venerdì, dalle 18.15 alle 20.15 su Teleclub Italia. Adesso vi presento una persona che a me sta molto a cuore, una persona eccezionale. La sua vita potrebbe essere anche un po' un romanzo, un romanzo bello, un romanzo da sfogliare insieme. Ma partiamo da quello che è successo negli ultimi giorni che ha fatto un po' discutere. Sto parlando di Don Massimo. Don Massimo è il parroco di Pontericcio. Per chi non conosce Pontericcio è una zona di Giuliano che sta a metà tra la fascia costiera e il centro di Giuliano. È la zona dove purtroppo sorgono innumerevoli siti di smaltimento di rifiuti, dove per anni ci sono stati problemi di natura ambientale, una zona che si è sviluppata a ridosso di una bellissima parrocchia. La parrocchia appunto che in questo momento è condotta da Don Massimo, ma è una zona che per anni ha avuto tanti problemi. Delinquenza, prostituzione, problemi anche legati allo smaltimento, non solo lecito di rifiuti perciò con gli impianti, perché lì di fianco c'è lo stir, c'è anche il nuovo impianto della regione per spacchettare le coballi. È una zona che ha avuto anche tanti problemi per lo smaltimento illecito di rifiuti, perché è la zona più vicina anche ai campi Rom, perciò è la zona che si trova nel cuore della terra dei fuochi. Insomma, è una zona che ha tanti, tantissimi, tantissimi problemi. Però lì c'è una parrocchia, prima c'era Don Luigi, prima ancora di Don Luigi c'era proprio il nostro Don Francesco, adesso da alcuni mesi è diretta da Don Massimo, che seguendo una tradizione ha organizzato una benedizione, bellissima festa parrocchiare nel mese di settembre, con tanti ospiti, con tante persone, ha dato a quella comunità dove c'è sempre il buio, una luce, una luce per stare insieme, una luce per trascorrere del tempo. Durante questi festeggiamenti dal palco ha detto delle parole importanti, delle parole molto forti, di questo discuteremo insieme oggi. Voglio ringraziare tutti coloro che con attiva partecipazione hanno contribuito alla realizzazione della tradizionale festa di San Matteo Apostolo e primo evangelista. Abbiamo iniziato l'organizzazione consapevoli che non sarebbe stato facile dopo due anni di pandemia e di problematiche territoriali. Il borgo Lariccia, costruito negli anni Sessanta, dove fu eretta la parrocchia dedicata a San Matteo, è abbandonato anche dall'amministrazione comunale, quasi come un fastidio ma non è abbandonato da Dio. Questo borgo merita di più. C'è una terra che grida e noi abbiamo l'obbligo morale, affettivo, di ascoltare questo grido. C'è una terra che grida di essere risanata e bonificata. Il fondamento del nostro agire deve essere la coscienza per una consapevolezza del nostro operato, per capire se i sentimenti sono espressioni di bene o di male. La voglia di uscire, di ritornare insieme, di socializzare, la fede in Cristo e la devozione al Santo Patrono sono un grande segno di speranza per questo territorio. La festa non si realizza da sé, ma con il concorso di tante persone, con il sostegno e il contributo anche di tutti voi. Parole semplici, parole che venivano dal cuore Don Massimo, parole che però qualcuno forse ha voluto interpretare anche come un attacco all'amministrazione. Lei mi diceva che non era per nulla mia intenzione, anzi io volevo sottolineare ben altro. Certamente, se vogliamo parlare dell'amministrazione questi problemi non sono sorti oggi, ma sono sorti anche come accennavi tu prima, quando era parroco Don Francesco, quando è stato l'ultimo parroco Don Luigi per ben 17 anni, quindi io sento che questi problemi ci sono da 25 anni, quindi dobbiamo allora condannare 25 anni di amministrazione comunale. Invece con l'amministrazione attuale c'è un dialogo certamente, ci sono anche tanti amici che prima che io diventassi prete già conoscevo, anche le famiglie, quindi non è sicuramente un'accusa, non è un puntare di dito all'attuale amministrazione comunale, anzi ma è un invito al dialogo. Sicuramente, anche perché i problemi di Pontericcio sono tanti, lei li sta vivendo in prima persona, è davvero difficile vivere lì Don Massimo? Diciamo che è difficile ma non è impossibile, perché come avevo detto, come territorio siamo un po' abbandonati, ma anche dallo Stato siamo un po' abbandonati, non solo dall'amministrazione comunale da tanti anni, sappiamo bene che è difficile perché almeno le volte che vengono i bambini a messa la domenica alle nove e mezza e poi una volta a settimana vengono per partecipare al catechismo, durante la settimana devono vivere anche uno scempio perché lì quasi a 50 metri della chiesa appena si scende il ponte c'è un degrado non solamente di rifiuti ma abbiamo anche delle prostitute che non vogliamo condannare, vogliamo ancora oggi dialogare anche con loro ma a questo sono 25 anni che ci sono questi problemi. Nelle attività che facciamo in settimana anche il lunedì, che facciamo il lunedì catechesi sul Vangelo di San Matteo, abbiamo approfittato di questo tempo anche a cavallo della festa, è lì per esempio nemmeno in casa nostra stiamo tranquilli perché ci sono venuti a rompere i finestrini delle macchine per rubare quello che c'era nelle macchine, allora vedi ci deve essere sempre un'attenzione, uno vorrebbe dialogare con tutte queste realtà ma è difficile, da soli non ce la facciamo. Che cosa chiedono gli abitanti di Ponte Riccio, Don Massimo? Lei ci parla, li ascolta, li accoglie in chiesa? Io tutto quello che ho detto dal palco oltre ai ringraziamenti è frutto di persone che vengono a confessarsi, è frutto di persone che vengono un pochino a confrontarsi con me, si sentono sole, si sentono abbandonate, sentono la sera questa puzza di questi roghi tossici che partono da Ponte Riccio ma arrivano anche in città, ecco perché deve essere una responsabilità cittadina, non solamente della periferia, nella periferia. Certo, anche perché poi la sua parrocchia, la chiesa di San Matteo è l'unica istituzione presente in quel territorio perché poi non ci sono scuole, c'è una stazione ferroviaria che potrebbe essere un grande volano di sviluppo ma è abbandonata anch'essa a se stessa. Ma è abbandonata a se stessa anche se sarebbe un punto di riferimento per quella zona perché è molto comodo quella stazione ferroviaria perché è collegata bene, il problema è sempre il degrado, è sempre l'abbandono, quello è il problema. Siamo sempre, ritorniamo sempre. Anche perché poi quella stazione è una battaglia che io porto avanti da quando faccio il giornalista, perciò ormai da vent'anni, io non mi stancherò mai di dirlo, da Ponte Riccio in venti minuti si arriva al centro di Napoli, a Piazza Amedeo in venti minuti. Purtroppo negli anni hanno tolto treni su treni, ma da Ponte Riccio si potrebbe arrivare a Montesanto, perciò a Piazza Dante in 35 minuti, sarebbe una metropolitana già pronta, si devono solo aumentare i treni e fare un parcheggio custodito per tutti gli abitanti di Ponte Riccio, di Casacelle, di Barcaturo che potrebbero lì arrivare con la macchina, lasciare la macchina come si fa da Fragola quando si va a Roma, prendere un benedetto treno e ce ne stanno perché adesso si fermano a Pozzuoli, perché la linea Salerno-Campi-Flegrei basterebbe allungarla a Pozzuoli, Quarto e Giuliano, così da avere tutta l'area metropolitana la possibilità di avere un altro collegamento, perché quella alla fine non è altro che la linea 2 di Napoli, che purtroppo si ferma a Campi-Flegrei, ma il binario corre già, non c'è bisogno di niente, solo di mettere i treni e di aggiustare un parcheggio. Quattro spiccioli, quattro spiccioli rispetto ai miliardi che si spendono e potremmo dare a quella zona un mezzo di trasporto importante che potrebbe servire a tutta la città. Allora Don Massimo, però le volevo fare una domanda, ma il sindaco o qualcuno dell'amministrazione l'ha chiamata dopo che questo video è andato anche su Facebook, sulle pagine Teleclub Italia? Ma l'amministrazione, come dicevo, siamo in comunione anche per vedere l'identità di quella zona, perché fino adesso ancora c'è una vera identità su quella zona, abbiamo anche altri problemi di fondo. Io ho saputo che ieri c'è stato un incontro nella zona Asi per ampliare la zona Asi e mi chiedo, ma dobbiamo ampliare la zona Asi o dobbiamo creare parchi giochi per bambini o iniziare a bonificare la zona? Invece di aumentare fabbriche, perché non iniziamo a bonificare questa zona, questa terra che grida, come ho detto, anche durante la chiusura dei festeggiamenti, perché in quella terra, io sono sei mesi oggi, che sono lì, che opero come parroco, è una terra che grida, è una terra che grida di essere risanata, ma soprattutto riscattata. Certo. Allora, il nostro titolo Don Massimo è Don Massimo il PR che è divenuto prete, perché la sua storia è una storia da raccontare. Lei da quanto tempo è prete? Io sono prete da quattro anni. E prima faceva? Prima facevo il PR, sì, sì. Il PR è proprio quello che va nelle discoteche, fa il portagente, organizza le serate. Organizza le pubbliche relazioni, organizza le serate, certo, certo, certo. Per sette anni, dal 2000 al 2007. Poi c'è stato l'incontro con un parroco eccezionale come Don Raffaele Grimaldi e qualcosa è cambiato in lei. Qualcosa è cambiato già un po' prima di questo incontro, perché? Perché attraverso una crisi personale di questi sette anni, dove sappiamo bene che un po' il mondo della notte non ti porta tanti buoni frutti, ti fa perdere anche un po' l'identità, perché sembra che si può fare tutto e si può toccare tutto, crediamo. Invece poi alla fine ci ritroviamo, ma chi siamo veramente? Che cosa vogliamo veramente nella vita? E sì, già stavano nascendo queste domande a me, poi fu invitato ad un ritiro che teneva Don Raffaele Grimaldi nel 2007. Questo ritiro, con la sua comunità, dove mia cugina faceva parte, era catechista allora nel 2007 della comunità di San Nicola dei Bari. Quando a un certo punto l'ha detto in famiglia, lei che era un PR, va là e dice però adesso ho deciso di diventare prete, come l'hanno presa? Inizialmente non ci credevano, mi ricordo che all'inizio che feci l'esperienza di questo ritiro, dove il Signore attraverso un passo del Vangelo mi ha parlato e ho sentito rimbombare nel cuore, era il passo di Luca 5, dove diceva Gesù vicino a Pietro diceva adesso sarai pescatori di uomini e lì il Signore mi ha rimbombato questa voce così tenera nel cuore, mi sono sentito chiamato, non sapevo a che cosa, è durata quasi 5 anni. Mi immagino agli amici quando poi hanno saputo che lei dalle discoteche passava alle parrocchie che le hanno detto? Ma qualcuno ci ha creduto inizialmente, già dall'inizio perché mi conosceva bene altri forse dicevano che io mi stava aggrappando un po' agli specchi però poi quando sei concreto nella tua decisione è il tempo che poi ti darà ragione. Ma c'è più andato poi una discoteca da prete? Sì, ci sono andato ma non in una discoteca dove c'è quel rumore assordante di musica un po' su qualche spiaggia per andare a trovare qualche amico che lavoravamo insieme giusto per salutarlo. Certo, anche perché poi il passo che lei ha ricordato, pescatore di uomini è anche un po' quello che fanno i PR, però prima lei li portava in discoteca ora li portava a Dio. Certo, 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 questo sono stato chiamato a questo e ho risposto a questa chiamata subito con amore anche se sono stato accompagnato attraverso anche tante esperienze come volontario in carcere a Secondigliano dove Don Raffaele... Adesso è anche il cappellano del carcere di Aversa... Di Aversa, attraverso l'esperienza... Un'altra esperienza molto forte... Sì, attraverso l'esperienza un pochino di bagaglio di volontario come nel carcere di Secondigliano perché Don Raffaele è stato quasi per 19 anni lì come cappellano... Il carcere di Aversa è un carcere particolare, spieghiamolo... Il carcere di Aversa è un carcere particolare perché è un ex OPG, è un ospedale psichiatra adesso è stato convertito da circa 6-7 anni in una casa di reclusione, un carcere di fine pena è un carcere dove ci vuole un po' di attenzione in più, perché? Perché quelli che ci vivono nel carcere, i detenuti, devono essere un po' accompagnati nell'inserimento sociale, visto che è un carcere di fine pena. Storie difficili, sicuramente storie che la segnano in quelle mura però le danno anche una speranza, mi ha detto. Certo, certo, anche perché da quando sono parroco da circa 6 mesi a San Matteo abbiamo ripreso un pochino una palazzina dove era un po' degradata ci siamo indebitati un pochino e abbiamo aperto una casa che si chiama Casa Zaccheo dove noi accogliamo i detenuti che sono disposti ad un inserimento sociale, ad un cambiamento di vita. Le faccio una domanda difficile Don Massimo, perciò il carcere riesce a rieducare, a far cambiare le persone oppure no, quello che pensano in tanti, uno se è delinquente è delinquente sempre. Il carcere può riuscire se dall'altra parte c'è una disponibilità perché tante volte qualcuno sceglie questo stile e anche se il carcere si sforza a rieducarlo c'è un muro perché quando uno sceglie una vita, sceglie questo stile difficilmente riesce a cambiare. Io penso che in carcere quasi il 5% riescono a ridimersi, a cambiare. Mettiamo insieme le due cose, lei è stato un PR, perciò conosceva e conosce tanto i giovani ed è anche oggi il cappellano di un carcere di fine pena. Purtroppo molti giovani in questo periodo fanno degli sbagli che li porteranno in galera per il resto della loro vita. Che cosa possiamo dire a questi ragazzi per fargli capire che la strada retta è la migliore e invece prendere le scorciatoie o addirittura scegliere quella del male, non serve a nulla e porta appunto a situazioni davvero difficili come quelle del carcere o peggio ancora come quella della morte. Oggi è un po' difficile dialogare con i giovani e presentare subito il Vangelo. I giovani oggi vogliono vedere testimoni, non vogliono vedere più maestri come diceva un grande santo, hanno bisogno di testimoni in famiglia, nelle comunità, hanno bisogno di vedere una comunità viva, una comunità non solo che celebra messa ma una comunità che riesce ad ascoltare anche le problematiche del territorio. Tanti giovani, noi a volte i giovani li condanniamo e invece i giovani hanno tante buone iniziative, tante energie, basta solo fargliele riconoscere queste energie e queste iniziative. Io penso che oggi noi abbiamo bisogno di dare un po' di fiducia ai giovani, anche perché... Per lei è sbagliato demonizzare le discoteche, il mondo della notte come alcuni fanno, dicendo che quello è un mondo dove si può solo sbagliare? Ci sono alcuni luoghi che non possiamo dire che sono luoghi di aggregazione oppure solo di gente pulita, perché sappiamo bene dove c'è solo caos, dove c'è solo alcol, dove c'è solo droga, non possiamo dire che quel luogo è un luogo sano. Ci sono luoghi sani, certo, club dove il pubblico non sono queste masse, ma sono quasi 150-200 persone che si uriniscono anche davanti ad un bicchiere di vino, anche ad un aperitivo, certo, con un po' di sottofondo musicale. A proposito di sottofondo musicale, qual'era la sua canzone preferita, Don? Figli delle stelle. Di Alan Sorrenti. Esatto. È sicuramente una canzone che già forse si intravedeva l'idea di guardare in alto per il suo futuro. Allora, ringraziamo Don Massimo, veramente gli facciamo il grande bocca al lupo per le sue battaglie con i detenuti, con Ponte Ricci, una zona difficile, noi gli staremo sicuramente di fianco perché ne ha bisogno e resteremo qui per raccontare le cose che fa, tra l'altro proprio in questi giorni sta andando in onda uno speciale in tutta Italia sulle attività che Don Massimo ha fatto, anche grazie all'otto per mille, un motivo in più per ricordare che l'otto per mille è una cosa che permette a tanti preti di fare cose buone e giuste. Nel frattempo voi restate sul 77, un attimo di pubblicità. Ben tornati in studio, che grande personaggio Don Massimo. Marco, come al solito vediamo la home page del nostro sito internet. Sì, le notizie più importanti del giorno, ovviamente la notizia più importante del giorno, almeno sui social, è la polemica suscitata dalla scelta di un parroco di Casal Nuvo di celebrare una missa in suffraggio del boss Matteo Messina Denaro. I sacerdoti... Veramente voleva fare una messa per Matteo Messina Denaro. Sì, interpellato anche da alcuni colleghi di Radio Marte e dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli ha confermato questa intenzione e ha spiegato che è stata una scelta indotta da una richiesta di un fedele della parrocchia. Purtroppo dobbiamo confermarla. All'inizio si supponeva che potesse essere stato un hacker oppure un burlone a scrivere questo post sulla pagina ufficiale della parrocchia di Licignano. Ah, perché non solo la voleva fare, l'ha anche annunciata. L'ha annunciata, sì, per le 19 di oggi, presso la parrocchia di Licignano, che è una frazione di Casal Nuvo. Purtroppo è così. Andiamo avanti che abbiamo solo un altro video. Sì, poi ovviamente tiene banco anche la visita del presidente Sergio Mattarella a Napoli in occasione della ricorrenza delle quattro giornate, poi ovviamente i disagi provocati dal terremoto, il terremoto stesso e infine ancora la vicenda di Caivano con tutti gli episodi documentati dall'ordinanza del Tribunale di Napoli. Per la pagina della politica invece c'è una polemica a Giuliano per i lavori del cinema moderno. Restate con noi sul 77 perché ci sarà un telegiornale ricchissimo di collegamenti, andremo di nuovo a Pozzoli per il terremoto, saremo di nuovo a Napoli per la visita di Mattarella, sentiremo il sindaco di Casal Nuovo, l'intervista appena arrivata in redazione proprio su questa vicenda della messa di Mattia Messina Denaro, parleremo ancora di Caivano, della vicenda delle cuginette. Ultime novità anche sullo sport perché sapete che c'è il caso Zimè, che è arrabbiatissimo per un video apparso su TikTok, addirittura ha cancellato tutte le foto che aveva con la maglia del Napoli dei propri social. E poi c'è anche la vicenda dell'allenatore del Giuliano, dovrebbe esserci a breve la nomina di un nuovo tecnico dopo l'esonero di mister di Napoli. Restate con il 77, grazie. Grazie.